Musica E' un'altra cosa? No, non lo va a mani. No, non lo va a mani. Perché il ca me è approcci. Cosa. 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 Questa. Quanti a cui è coraggio La caccia da qua Quanti a rupo Ma che chiama Ehm Quanti a rupo 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 Buono e che bello vedete 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 Sì no, vabbola ecchè vabbola ecchi vabbola ecchi vabboli Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.